Passaggio di consegne al Conservatorio Musicale Braga di Teramo tra il presidente uscente Sergio Valente e il nuovo presidente Lino Befacchia. Valente ha virtualmente consegnato le chiavi a Befacchia di un'istituzione tra le più antiche d'Abruzzo, con 123 anni di attività musicale e culturale alle spalle e che dopo tante peripezie e difficoltà è tornata ad essere protagonista. Tre anni di musica, tre anni di cultura, quali sono i suoi progetti, i suoi programmi? Mi devo preoccupare degli aspetti organizzativi, degli aspetti che attengono al funzionamento, risorse, rapporti con gli enti. Fare ciò che non deve fare è il direttore artistico, perché il direttore artistico è persona che ha le sue competenze, le sue qualità, che sono di gran lunga superiori. Di cosa ha bisogno questo conservatorio? Innanzitutto della stima di tutta la città, dico tutta, perché mi è sembrato, da esterno, non vorrei sbagliarmi, che per un certo periodo sia stata un'istituzione sopportata. Tralascio qualche truculenta affermazione di alcuni personaggi di qualche anno fa, qualche, non è plurale, plurale. È un quasi singolare che quella deve essere distrutta, deve essere chiusa. Questa è una scuola, un'istituzione che ha 123 anni. Lo ripeto, 123 anni, non può essere un menestrello dell'ultima generazione a decretarne la chiusura. Vorrei che la città amasse questa scuola così come ama il liceo classico e sta a Piazza Dante, anche se poi dei selvaggi hanno massacrato la piazza, ma questa è un'altra storia. Lino Befacchia, docente di storia e filosofia, già preside del liceo classico Melchiorre Delfico, è stato nominato presidente del Braga dal ministro dell'istruzione ed è pronto a guidare una macchina non ancora perfetta, ma perfettibile.